Il senso delle panchine, memoria e nuova socialità nei parchi storici contemporanei è il titolo del convegno ospitato nei locali del campus universitario aretino e inserito nel calendario di Vivi il Pionta, una a due giorni di eventi per favorire la rigenerazione sociale urbana del parco cittadino. Il dibattito è stato organizzato nell'ambito delle attività del progetto Genius Loci Memoria Identità, finanziato dalla regione toscana. Sfruttare un lavoro di gruppo dove la panchina potrebbe essere un elemento semplice, forse anche banale, ma che ci permette di cogliere quel senso del lavoro di gruppo. Si può lavorare da soli, soli seduti sulla panchina, ma anche osservare e vedere e interagire con gli altri. I locali che oggi ospitano il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche Cognitive dell'Università di Siena sono stati sede della realtà manicomiale aretina a cui fanno riferimento alcune fotografie esposte all'interno del campus. Le foto storiche di quelle che era l'uso del tempo dai pazienti psichiatrici delle panchine era il modo anche per avere un po' di pausa, una tregua, una sosta rispetto a quello che era un po' la normale vita ospedaliera, ma abbiamo anche dei poster su Marco Cavallo, che è stato questo cavallo di carta pesta realizzato nel 1973 nell'ospedale di Trieste, è stato il simbolo della libertà. Al termine della mattinata performance artistica con Cifra Danza Teatro a cura di Sosta Palmizzi.